Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde. Oggi parleremo di mobilità 2023-2024, siamo ormai alla stretta conclusiva e probabilmente partirà la mobilità fra pochi giorni. Domanda numero 1. Quando sarà resa nota l'ordinanza ministeriale sulla mobilità 2023-2024? I sindacati, convocati dal Ministero dell'Istruzione del Merito per le ore 11.30 di venerdì 17 febbraio, non hanno ancora ricevuto nemmeno la bolsa dell'ordinanza ministeriale della mobilità 2023-2024. Si presume che al più tardi, entro il 16 febbraio, la bolsa sarà inviata ai sindacati, il 17 ci sarà l'incontro al Ministero e poi entro il 22 febbraio sarà pubblicata questa ordinanza ministeriale. Domanda numero 2. I vincoli triennali dei docenti resteranno o si troverà un compromesso con i sindacati per evitarli? La situazione dei vincoli della mobilità è molto complessa ed esiste uno stretto riservo da parte del Ministero dell'Istruzione del Merito sull'argomento. Il dato è che per via legislativa i vincoli non sono stati né prorogati col mille proroghe né aboliti con altra normativa legislativa e sarà molto difficile che ciò avvenga per via contrattuale. Adesso non resta che conoscere quali docenti saranno vincolati e quali invece potranno fare domanda di mobilità. E da aggiungere anche che il Ministero vuole convincere i sindacati a una mobilità a due periodi. Il primo periodo i docenti non vincolati eventualmente se si riuscisse per via legislativa a superare la questione dei vincoli un secondo step in fase successiva. Dunque una mobilità in due momenti. Domanda numero 3. Quali saranno i tempi per la presentazione della domanda di mobilità 2023-2024? Se tutto procederà come da crono programma del Ministero dell'Istruzione del Merito per i docenti sarà possibile presentare la domanda di mobilità per via istanze online dal 24 massimo 25 febbraio fino al 10 11 di marzo. Per il personale ATA si dovrebbe partire per il 9 di marzo per terminare il 25 del medesimo mese. È chiaro che se la mobilità realmente fosse fatta in due step il successivo cioè per i docenti che attualmente sono vincolati il successivo step andrebbe a verificarsi anche tra la fine del mese di marzo e gli inizi del mese di aprile. Speriamo che le risposte date alle vostre domande siano utili e ai nostri telespettatori. Seguiteci ancora nei nostri canali social per quanto riguarda Facebook e YouTube. Tenete conto che già venerdì prossimo, venerdì 17 febbraio, dovremmo mandare in onda una diretta che riguarda proprio il tema della mobilità. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie a tutti.